Un saluto ben ritrovati dalla redazione del Tg della Mobilità. Sabato mattina a San Pietro l'udienza speciale di Papa Francesco con il movimento ecclesiale di comunione e liberazione. Prevista la partecipazione di circa 60.000 persone, possibili ralentamenti per la viabilità nelle vie adiacenti. Sempre sabato mattina manifestazione promossa dal blocco studentesco davanti al Ministero dell'Istruzione. Tra via Morosini e viale Trastevere, possibili ralentamenti per la viabilità della zona. Sabato pomeriggio, poi dalle 14 a San Giovanni, manifestazione per la pace. In questo caso sono attese 1.500 persone, possibili temporanee chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per nove linee del trasporto pubblico. L'elenco è su romamobilità.it